Da alcuni giorni nei quartieri napoletani è scattato un vero e proprio campanello d'allarme. Nel Vomerese si aggirerebbe un ladro seriale che avrebbe già preso di mira diverse attività commerciali dalle quali ha rubato incassi. Lo denuncia un ristoratore della zona che si è rivolto al deputato dell'alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Il ristoratore avrebbe subito quattro rapine a distanza di pochi mesi. Il ladro in questione è noto alle forze dell'ordine e ruba le attività in via massimo stanzione nel cuore del quartiere ed è stato denunciato. I cittadini non si sentono per sicuro e hanno perso la fiducia nelle istituzioni che ora hanno il dovere di recuperare terreno. Più agenti per le strade, come è stato promesso, e meno tolleranza contro criminali e delinquenti, sottolinea Borrelli. Questa mattina invece i carabinieri della stazione Napoli Stelle e gli agenti della polfera di Napoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e messa dal GIP di Napoli su richiesta della locale procura a carico di Francesco Ziccardi e Denzo De Ponte, 55 anni e 39 anni, già notte alle forze dell'ordine. I due sono ritenuti gravemente indiziate di una serie di furti e rapine commesse all'interno nelle immediate adiacenze della stazione di piazza Cavour della metrolinea 2 e lungo altre tratte dei mezzi di trasporto pubblico. I militari hanno documentato ed accuratamente analizzato le immagini di videosorveglienza. Principali obiettivi nelle rapine, nei furti, le persone anziane e tantissimi turisti che arrivano in piazza Cavour per visitare il centro città. Molta delle aere furtive è stata riconsegnata ai legittimi proprietari.